Grazie Grazie Vabbè quella di Gesù Cristo in croce la sapete tutti No E c'è Gesù Cristo in croce E vabbè è finora Ci siamo no? A un certo punto si gira verso E sapete che erano i due ladroni no? Uno che era un po' più bravo l'altro un po' peggio Si gira verso uno e gli fa Oh E l'altro gli fa Ma tu a quanto sei a distanza da me? E questo gli dice Ma sarò non so tre metri Ok Poi si gira verso l'altro e gli dice E tu E poi dì Ma senti ma tu a quanto sei più o meno a distanza da me? Ma non so sarò tre quattro metri Ah Allora solo io Faccio un pezzo estremamente turista Così mi pianto Ho anche Maria che va da Giuseppe e gli dice Giuseppe Sono preoccupato poi con il nostro figlio C'è 33 anni e due vici in croce C'è 34 anni e due vici in croce C'è 34 anni e due vici in croce